Siamo fatti in maniera meravigliosa. Quando riflettete su ciò che sono capaci di fare gli animali, non sentite a volte un pizzico di invidia? Forse vi piacerebbe planare come un albatro, nuotare come un delfino, avere la vista di un'aquila o correre come un ghepardo. È vero, gli animali sono in grado di fare cose straordinarie, ma noi non siamo da meno. Non a caso il corpo umano è stato definito una macchina perfetta. Ovviamente noi siamo molto più che una macchina. Siamo dotati di creatività, curiosità, immaginazione e ingegno, qualità grazie alle quali ideiamo macchine con cui possiamo fare praticamente tutto ciò che ci proponiamo. Possiamo volare a velocità che superano la barriera del suono, navigare sopra o sotto la superficie di vasti oceani, addentrarci nello spazio con lo sguardo per 14 miliardi di anni luce, vedere all'interno di una microscopica cellula vivente, e mettere a punto farmaci, terapie e tecnologie che ci permettono di diagnosticare e curare malattie. Comunque, gli esseri umani che godono di buona salute e si sottopongono a un'adeguata preparazione fisica, sono capaci di cose eccezionali anche senza il supporto della tecnologia. Alle Olimpiadi, per esempio, chi partecipa alle gare di ginnastica, tuffi dalla piattaforma, patinaggio su ghiaccio, sci e altre discipline, compie gesti atletici incredibili, sfoggiando agilità, eleganza, creatività e grazia tali da mandare il pubblico invisibilio. Apprezzate i vostri meravigliosi doni? Magari non sarete degli atleti olimpionici, ma avete comunque molti doni di cui essere grati. Uno scrittore biblico dell'antichità mostrò di avere questo tipo di gratitudine. Rivolgendosi a Dio cantò Ti loderò, perché sono fatto in maniera tremendamente meravigliosa. Salmo 139,14 Perché non tenete presenti queste parole? Tratteremo in maniera più approfondita alcune delle meraviglie del corpo umano, nonché certe caratteristiche ben più importanti, che ci rendono davvero unici. Se siete interessati al confronto fra creazione ed evoluzione, Vigilità 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 Grazie a tutti